Musica Ci troviamo a Soveria Mannelli, dietro l'invito della Rubettino Editore, che ringrazio tantissimo, per la mostra sul carbone, un connubio un po' strano, ma creato da Ettore Moho, l'inviato del Corriere, che qualche anno fa fece un bellissimo parallelismo tra il sacrificio dei carbonai, che si alzano di notte per assistere alle carbonaglie, e quello dei certosini che si alzano di notte per pregare. Sulla falsa riga di quell'idea nasce questa mostra, quindi io vengo da Serra San Bruno e porto i carbonai di Serra San Bruno, che è una bellissima realtà, rimasta immutata nel tempo, perché è un lavoro che va avanti dal tempo dei Fenici. Soveria Mannelli, tra l'altro, si lega a Serra San Bruno, perché anticamente, ma più di 20-30 anni fa, ci venivano a lavorare i serresi, perché per tradizione i serresi sono boscaioli, e quindi il territorio è molto simile al nostro, e per cui sono arrivati qua. Grazie ancora e a presto. Grazie a tutti.